Gli hanno stuprato la figlia e si è fatto giustizia da solo. La nostra società non può accettare un uomo che si è fatto giustizia da solo. Chiederò la pena di morte. Hai mai visto giustiziare un uomo? Non lasciare che quei bastardi ti distruggano. Dal best seller di John Grisham, un film di Joel Schumacher, Sandra Bullock, Matthew McCannaghy, Samuel Jackson, Kevin Spacey. Peritovano di morire e spero che bruciano all'inferno! Il momento di uccidere. Il momento di uccidere.